Alla custodia, se lo chiamo? No, no, ma se lo vedo, no, solo il microfono solo. Eh, eh sì. Questo secondo appuntamento è della nostra serie di incontri che stiamo facendo appunto qui alla biblioteca di Macerata. Ehm, volevo essere volutamente polemico Letizia perché stasera, adesso come sopportato, abbiamo fatto dei comunicati sulla stampa e il nostro comunicato è stato messo sotto alle notizie dalla provincia, ma ancora non è apparso, parlo di, non faccio nomi, di groneche mangelatesi. Sì, mentre sono a passare notizie, la più grande è far la falena a Lions, oppure rubato un pc in un bar questa notte. Ecco, queste sono le notizie che pubblicano, invece le nostre manifestazioni vengono, io penso a questo punto, volutamente censurate e quindi mi dispiace ma dobbiamo prendere atto con questa, quindi questo non possiamo fare. Vabbè, chiusa questa notizia dovuta, ecco, sono, faccio porto gli auguri al nostro reddito da parte del nuovo fiduciario della nostra condotta, che purtroppo stasera c'è la chiusura delle campagne elettorali e lui è impegnato nelle campagne elettorali nei comuni, oltre che alle europee, a Monte San Giusto e quindi non se ne scusa ma essendo un candidato è l'ultimo giorno lo assolviamo da questo impegno. E quindi, ecco, prossima settimana sarà l'ultimo dei nostri appuntamenti, appunto, con il codice P, il paesaggio, i quadri di Leonardo della Gioconda con gli scenari del nostro territorio e quindi lega queste tre conferenze, appunto, sul paesaggio. Oggi ci rincontriamo con Luca Martinelli che, appunto, è uno del coordinamento nazionale del quale anche noi come condotta aderiamo, a cui, appunto, aderisce tutta una serie, è un coordinamento, quindi non c'è una struttura gerarchica, ma serve soltanto vi consiglio, appunto, di andare a vedere anche il sito perché è fonte giornaliera di aggiornamenti e di notizie molto, molto interessanti da questo punto di vista. Questo piccolo libro, ma piccolo soltanto nelle dimensioni perché è molto interessante, in modo, appunto, anche diluga, ma penso è una scelta di dobbiamo, quella di fare questi tipi di libri molto veloci, ma che non tolgono nulla a rigore nell'informare, nel dare conto, appunto, delle tematiche che stanno dietro a questi argomenti. Ne parlavo pure con Luca, appunto, ne ha fatto anche un altro molto bello sulle problematiche di considerare come argomento molto affascinante, lo dico anche da economista, la Cassa dei posti del prestiti nazionale che detiene il salvadanaio di tutti noi cittadini perché è quella che gestisce il risparmio costale di utilizzare queste risorse come bene comune, quindi che dovrebbe finanziare tutte quelle progettualità che dovrebbero salvaguardare, magari poi se ci dice anche qualcosa su questo, penso che fa piacere un po' a tutti, perché è legato a questi discorsi. Purtroppo, Luca mi diceva, è un libro che affronta una tematica, diciamo, importantissima, in un momento in cui le risorse, tutti, insomma, ci vengono a dire, le risorse mancano, mancano, bisogna portare avanti l'aspective review e poi abbiamo questo grosso, diciamo, fonte di finanziamento da dedicare a investimenti sociali che invece sono dirottati verso altri lì. Dicevo, questo libro legge su Salviamo il paesaggio, manuale per i cittadini e comitati, come difendere il nostro territorio da cemento e grandi opere inutili. Luca è venuto già da noi due anni fa, abbiamo presentato un altro suo libro del genere, di questo, appunto, sulla cementificazione, eccetera, quindi una tematica che ci sarà molto a cuore. Purtroppo, rispetto a quel momento, le cose nella nostra provincia non è che sono migliorate, anzi, sono peggiorate. Abbiamo discorso anche a cena il discorso del biogas, insomma, la centrale, tutto quello che è stato fatto nelle Marche, da questo punto di vista. Anche lì un utilizzo distorto delle risorse perché questi li fanno soltanto perché c'è il finanziamento pubblico e sono risorse ingenti che noi baghiamo sulle nostre bollette per quelle soldi che vanno invece a finire lì. La legge è stata resa anticostituzionale, quindi è stata stoppata, la legge regionale, sono sotto indagine della magistratura tutti i funzionari pubblici regionali che si dicono avevano un interesse in queste aziende che hanno costruito le generazioni del biogasso, tra cui una nella vallata del chiede. Invece tornando a questo libro, molto bello e ci riguarda molto da vicino a Come's the Food perché appunto c'è una bellissima introduzione di Carlo Pedrini che io ho raggiunto nella mail list, quindi già chi è qui qualcuno già la conosce. Quindi inizia, e poi magari passo la parola a te Luca, volevo partire appunto dalle prime righe, negli anni 50, poco dopo la seconda guerra mondiale, il poeta Andrea Zanzotto, scompasso non da molto tempo, ebbe a scrivere «Dopo i campi di sterminio stiamo assistendo allo sterminio dei campi». Penso è una frase che come venerdì abbiamo parlato di Donino Guerra che riesce con la poesia a sintetizzare queste cose molto più efficacemente di tante parole, quindi anche qui ti gelo la parola. Buonasera a tutti e grazie per l'invito a tornare a Corridoni, a Macerata, a affrontare i temi legati al paesaggio. Prendo spunto dalle tue parole per dire che 60 anni dopo Andrea Zanzotto, in Veneto, tutto continua a seguire la linea che lui aveva descritto o che riusciva a accogliere in maniera così emotivamente empatica in quei versi. Faccio un esempio che rende già, o che rende evidente quelli che saranno un po', quelli che sono un po' i temi anche di questo libro e più in generale dell'impegno che anche noi della rivista Altre Economie insieme con Slow Food portiamo avanti all'interno del forum nazionale Salviamo il paesaggio per chiedere uno stop al consumo di suolo. Zanzotto era trevisiano se non sbaglio e oggi la provincia di Treviso è il punto d'arrivo nella zona della Pedemontana Veneta è il punto di arrivo di una nuova arteria autostradale che si chiamerà appunto Superstrada Pedemontana Veneta e che dovrebbe unire una cittadina che si chiama Montecchio Maggiore in provincia di Vicenza con una cittadina che si chiama Spresiano in provincia di Treviso e che sostanzialmente permette di bypassare le città di Padova e di Vicenza ovvero di Vicenza e poi di Padova per raggiungere la zona delle Dolomiti la zona della provincia montana di Belluno e qualche anno fa nel momento in cui ci fu la cerimonia di posa della prima pietra di questa autostrada che sono sempre cerimonie importanti in cui intervengono in pompa magna le autorità e le istituzioni locali e non solo, la Regione Veneto diffuse un comunicato stampa di quel comunicato stampa che riportava anche i numeri dell'opera a me colpirono due dati il primo era quello che riguardava il volume, il numero di metri quadri di terreno che sarebbero stati occupati dall'infrastruttura e il secondo numero era quello delle case, degli immobili che si sarebbero dovuti abbattere per far spazio a quell'infrastruttura allora il primo numero è 8 milioni di metri quadri il secondo numero è, forse non ricordo perfettamente, ma inferiore ai 40 e in Veneto, in quel Veneto che dagli anni 50 è stato vittima dello sterminio dei campi che descrive Zanzotto, oggi trovare 8 milioni di metri quadri con meno di 40 edifici sopra significa sostanzialmente immaginare che questa nuova autostrada andrà ad occupare esclusivamente campi andrà a sacrificare quasi esclusivamente terreni agricoli questo è e questa è la situazione della pianura padana ma più in generale del nostro paese in quest'anno 2014 in questi ultimi anni in che senso dico questo? poi è appunto il tema, l'analisi che proviamo a sviluppare nella prima parte del libro, nel primo capitolo che ormai in Italia è diventato quasi nella gran parte del paese non si costruisce più quello che è stato il grande, non si costruiscono più abitazioni quello che è stato il grande problema di tutto il primo decennio di questo millennio, di questo secolo si è in parte risolto, ridotto per cause naturali c'è stata una tale iperproduzione di case, di abitazioni e c'è un volume, uno, viene definito uno stock di invenduto talmente elevato, talmente significativo secondo le stime del centro studi di Nomisma si parla di circa 650.000 abitazioni rimaste invendute tra quelle costruite negli ultimi dieci anni che oggi questo mercato ha avuto una sorta di decrescita naturale l'agenzia delle entrate presenta ogni anno i dati relativi alle compravendite di abitazioni e se nel 2006-2007 ogni anno si compravendevano passavano di mano circa 900.000 case adesso siamo a poco più di 400.000 ogni anno tra nuovo e usato, cioè tra abitazioni che non arrivano adesso sul mercato ma che vengono semplicemente vendute o passano di mano questo fa sì che l'edilizia residenziale si sia in parte, si sia affermata anche l'edilizia commerciale poi appunto ci sono casi però l'edilizia commerciale in generale nel paese pure ha avuto o ha conosciuto una battuta d'arresto importante questi sono i dati, secondo i dati dell'associazione nazionale che rappresenta i centri commerciali italiani nell'ultimo anno, nel 2013, ne sono stati costruiti soltanto 5 che superano i 20.000 metri quadrati di superficie lorda di pavimento in tutto il paese quando nel 2007 o nel 2008 forse perché era impossibile altri sì hanno riempito tutto ovviamente assolutamente anche in questo caso si è arrivati alla saturazione c'è un fallimento, qualcuno fallirà spero però nel 2007-2008 quindi non ere geologiche fa ma soltanto 5 o 6 anni fa si inauguravano ogni anno 40 nuovi centri commerciali quindi questo è un po' il rapporto rispetto alla situazione attuale e se vi ho fatto l'esempio della superstrada per il Montana Veneto è perché il vero nodo o il vero, dal mio punto di vista il vero problema nei prossimi anni sarà davvero quello delle infrastrutture e soprattutto delle grandi infrastrutture viarie un paio d'anni fa noi ci mettemmo come altra economia la rivista per cui lavoro che è un mensile di informazione economica indipendente a fare il conto delle autostrade in progetto e in costruzione del nostro paese e arrivamo a contarne 32 32 nuove autostrade per un totale di 2100 km e per un totale di circa 45 miliardi di euro di lavori come base di partenza senza contare che poi in Italia come ben sappiamo i soldi, il costo finale delle opere li evita in maniera significativa tra queste vale la pena ricordarlo l'opera più costosa tra quelle in progetto in Italia è marchigiana perché è il collegamento tra l'autostrada 14 e il porto di Ancona una bretella di poco più di 10 km ma che costa qualcosa come 60-70 milioni di euro a chilometro perché come sapete meglio di me perché siete marchigiani è quasi tutta in galleria quindi ha ovviamente un costo maggiore il problema delle grandi infrastrutture si pone anche perché nel corso degli ultimi anni l'interesse del governo in particolare durante il periodo in cui il paese è stato guidato da Mario Monti che aveva scelto come ministro delle infrastrutture come vice ministro delle infrastrutture due persone che avevano legami significativi con io la chiamo l'industria delle autostrade cioè Corrado Passera e Mario Ciaccio che nelle loro precedenti funzioni di amministratore delegato di Intesa San Paolo e di amministratore della banca infrastrutture, innovazione e sviluppo del gruppo Intesa San Paolo avevano, diciamo così erano degli attori importanti del settore autostradale sia come azionisti di concessionari autostradali sia come banca che erogava finanziamenti per la realizzazione di questi interventi Passera e Ciaccia sono riusciti durante il loro breve mandato a far approvare una legge che pone o che dà la possibilità di garantire bonus fiscali a coloro che realizzano grandi infrastrutture bonus fiscali significa per dirla in maniera spicciola e che tutti comprendiamo in maniera semplice defiscalizzazione chi costruisce una grande opera non paga l'iva per fare un esempio questo è un paradosso perché se pensiamo a un tema che credo sia di interesse comune il trasporto pubblico regionale il trasporto ferroviario regionale ad esempio nel momento in cui ogni regione italiana compresa Regione Marche fa un contratto con Trenitalia che è un'azienda pubblica di proprietà del Ministero per definire il numero dei treni che vengono garantiti ogni anno ai pendolari marchigiani cioè a coloro che fruiscono del treno tutti i giorni sulle linee regionali su quel contratto di servizio tra due soggetti pubblici si paga un'iva del 10% quindi a livello nazionale i contratti di servizio delle ferrovie valgono 1,8 miliardi di euro 165 milioni sono soldi di carta appunto di quest'iva di 10% sul contratto non si discute cioè non mi pare di averlo visto nell'agenda del governo la defiscalizzazione ad esempio dei contratti di servizio sul trasporto ferroviario regionale però si pensa di defiscalizzare le grandi opere per dare un'idea dell'entità di questa tipologia di intervento in questo momento si sta pensando la defiscalizzazione della autostrada del progetto di autostrada che dovrebbe collegare Orte a Mestre Orte provincia di Viterbo regione Lazio Mestre provincia di Venezia regione Veneto sono 400 km di autostrada lasciamo stare quello che sarebbe l'impatto ambientale nel senso che sarebbe lunghissima la descrizione dei siti di interesse comunitario intercettati delle aree a parco lambite delle riserve naturali attraversate dall'autostrada per concentrarci soltanto su un aspetto questo intervento costerebbe circa 10 miliardi di euro e lo sconto fiscale cioè le entrate cui lo Stato rinuncia per permettere di realizzare questa autostrada sarebbero circa 1,8 miliardi di euro questo per darvi per dare l'idea di quello che è la portata di questa tipologia di di interventi con lei scusi ha detto giustamente tralasciando l'aspetto ambientale ma l'aspetto ambientale si si no l'aspetto ambientale è un costo spaventoso perché tutti i ponti i viadotti i tun impattano sull'ambiente in maniera spaventosa si si no se vuole guardi è un costo spaventoso penso che tuttora ma perché anche rinunciare ai soldi tra altre cose roviniamo molto e rinunciamo pure ai soldi penso guardi ad oggi penso di essere stato l'unico giornalista che ha avuto il permesso per quanto noi siamo appunto una rivista piccola indipendente a differenza delle grandi corazzate e media il mio direttore qualche anno fa mi ha dato la possibilità e l'opportunità di prendermi tre giorni per realizzare o per attraversare tutti i territori percorsi che sarebbero appunto tagliati dalla Orte Mestre per documentare quello che andremmo a perdere io ci ho messo tre giorni mi sono preso tre giorni sono partito da Mestre e ho attraversato uno per uno tutti i territori impattati quindi se volete io faccio anche l'elenco di tutti i siti WWF zone di protezione speciale siti di interesse comunitario che verrebbero compromessi messi dalla autostrada tra Orte e Mestre questo anche per dire che ovviamente non è una cosa che io tralascio ma in questo momento semplicemente davo quell'indicazione che anche diciamo così ovviamente la nostra rivista ha una attenzione al tema del consumo di suolo ha un'attenzione ai temi ambientali ma anche se ci volessimo porre in un'ottica completamente diversa cioè quella del liberista che prende una decisione semplicemente perché dal punto di vista del dal punto di vista del del Corrado Passera che andava a presentare questo progetto in in Parlamento qui si tratta di garantire 10 miliardi di euro di appalti perché questa è l'unica cosa che conta anche a front diciamo così se anche ci mettessimo in questa in questa ottica io trovo appunto rilevante la criticità per quale motivo come giustamente riconosceva la signora dobbiamo rinunciare ad incassare 1,8 miliardi di euro peraltro appunto io potrei elencare un'infinità come ho detto uno solo del trasporto pubblico regionale di settori in cui sarebbe più opportuno applicare semmai una defiscalizzazione commercio di prossimità agricoltura biologica piccola distribuzione organica possiamo servizi sociali servizi pubblici locali possiamo iniziare ad elencare tutta un'altra serie di servizi o di ambiti cui magari si potrebbe rinunciare all'IVA piuttosto che garantire lo sconto uno sconto fiscale a chi realizza grandi opere ma ci sono anche altri aspetti che sono particolarmente rischiosi o rilevanti a immaginare o a pensare un'opera del genere uno se questa diciamo così se uno si legge il piano economico finanziario della della Orte Mestre la prendo a paradigma perché io la considero l'emblema di un paese che non ha assolutamente fantasia perché siamo nel 2014 e non possiamo immaginare lo sviluppo come negli anni 50 quando si pensò all'autostrada del sole io della Orte Mestre parlo come se fosse l'autostrada del sole del ventunesimo secolo perché vorrebbe secondo l'idea dei promotori avere lo stesso effetto impatto per l'economia del nostro del nostro paese e ci sono altri due aspetti che sono significativi e che chiamano in causa tutta un'altra sfera o tutta un'altra serie di aspetti problematici il primo perché questa autostrada sia sostenibile dal punto di vista del piano economico finanziario che è stato presentato e il traffico sulla stessa dovrebbe aumentare secondo il piano economico finanziario del 25% tra il 2022 l'anno in cui secondo il cronoprogramma l'autostrada dovrebbe essere pronta e il 2033 ora se noi immaginiamo ancora che il traffico privato su gomma cresca dopo il 2022 e fino al 2033 stasera salutiamo noi siamo visti due volte nella nostra vita però probabilmente non ci diremo più perché stiamo andando verso l'autodistruzione della vita della storia perché se se dobbiamo continuare a immaginare che tutto si svolga sul trasporto su gomma e su una mobilità fondata sul trasporto sull'utilizzo di mezzi privati non andiamo avanti primo aspetto secondo aspetto che pure riguarda tutti noi come cittadini è che secondo il piano economico finanziario gran parte delle risorse per realizzare questo intervento dovrebbero arrivare dalle banche private ci sono due scenari che vengono presentati in quel piano economico finanziario uno ci dice che le banche private ci mettono 4 miliardi e mezzo di euro uno ci dice che le banche private ci mettono 5 miliardi e mezzo di euro e qui la riflessione che dobbiamo fare non è semplicemente ma non c'è un modo migliore di spendere quei soldi non ci sono altri settori dell'economia che potrebbero ottenere quelle risorse questo è un lato è un aspetto c'è un altro ben più grave ed è il riscontro ed è un riscontro che è evidente guardando la realtà dei fatti cioè la realtà degli ultimi anni negli ultimi anni sono partiti già dei cantieri di grandi opere autostradali ad esempio in Lombardia per le autostrade che dovrebbero servire alla piena realizzazione al pieno successo di Expo dell'esposizione universale del prossimo anno del 2015 però a un certo punto ci si è resi conto a un certo punto si è dovuto fare i conti con il fatto che queste fantomatiche banche private i soldi non li hanno messi i soldi non li hanno messi probabilmente perché i numeri ovvero i dati dei piani economici e finanziari magari non erano totalmente credibili soprattutto quelli legati al traffico stimato e quindi agli incassi per i pedaggi e alla fine in Lombardia almeno si è fatto così si è andato a bussare al pubblico quindi le due autostrade che si stanno realizzando in questo momento che sono la Brebeni Brescia Bergamo Milano e la TEM tangenziale est esterna di Milano sono state finanziate dalla Banca Europea degli Investimenti che è una banca pubblica dell'Unione Europea e da Cassa Depositi e Prestiti soggetto mi faceva prima riferimento Fabio a cui insieme a un'altra persona che si chiama Antonio Tricarico ho dedicato un altro livello delle dimensioni di questo che si chiama la posta in gioco è grave immaginare che le risorse che anche le risorse del risparmio postale di cittadini italiani perché Cassa Depositi e Prestiti che è controllata l'80% dal Ministero del Tesoro usa che gestisce le risorse del risparmio postale dei cittadini italiani cioè tutti i soldi che noi depositiamo su un libretto postale o investiamo nei buoni fruttiferi postali utilizzi queste risorse per costruire autostrale e investono i soldi in Alitalia in Alitalia è l'unica operazione che hanno detto di no non ci hanno le poste ma il CDP no Cassa Depositi e Presi non ha accettato di entrare in capitale di Alitalia però utilizzano i nostri soldi con ma forse è per quello che non vuole pagare il libro perché tanto già non la devo pagare io non lo so però per fare un altro esempio che anche è caro e vicino alla cultura di slow food e che è legato sempre ai temi del consumo di suolo e di Cassa Depositi e Presi lo scorso anno CDP stava trattando l'ingresso in una società che costruisce e gestisce centri commerciali la società è quella che gestisce centri commerciali a marchio Iper e supermercati a marchio Unes e con un investimento di 100 milioni di euro 100 milioni 100 milioni di euro investiti nella nei centri commerciali io definirei investiti nella filiera agroalimentare perché alla fine un centro commerciale è qualcosa che impone una determinata organizzazione di tutta la filiera agroalimentare allora uno potrebbe immaginare in un altro paese che magari alcuni di noi potrebbero possano vogliono auspicare che questi 100 milioni di euro potrebbero essere presi spacchettati in 100 fondi da un milione di euro e investiti uno per ogni provincia italiana per sostenere dare gambe ai progetti di filiera corta di piccola distribuzione organizzata di mercati locali e territoriali spesso questo ad esempio è una diciamo così l'osservatorio della rivista altra economia a noi ci permette di incontrare intercettare molte storie di questo tipo in tutto il paese spesso ci rendiamo conto o spesso i nostri interlocutori ci spiegano che a un certo punto lo scoglio diventa proprio quello di una minima organizzazione logistica della capacità di organizzare la distribuzione in maniera tale che non tutti i produttori debbano anche occuparsi della distribuzione perché soprattutto i piccoli produttori i piccoli agricoltori che devono lavorare nei loro terreni e nelle loro aziende agricole non hanno tempo per lavorare in maniera efficace anche su queste fasi immaginiamo o immaginiamo che cosa potrebbe significare dare ai territori dove queste esperienze si stanno formando la possibilità di investire un milione di euro perché poi non si tratta di prestiti o almeno non si trattava di un prestito ma di investimenti per sviluppare determinati settori credo che proprio il tema o il nodo fondamentale sia proprio quello della fantasia cioè dell'incapacità da parte di coloro che ci governano continuare se effettivamente continuano a pagare un contributo maggiorato di iscrizione alla Camera per finanziare la realizzazione della quadrilatero in cambio di promesse future di sviluppo legate al raddoppio di questa infrastruttura perché quando negli anni scorsi venne siglato l'accordo di programma per la realizzazione della quadrilatero le tre camere di commercio aderirono e da quel momento gli iscritti devono pagare una quota quadrilatero per il momento non credo che tutti i benefici di questo intervento si possano godere tanto che appunto mi pare che l'anno scorso o nei primi mesi di quest'anno il governo ha dovuto stanziare nuove risorse pubbliche per finanziare la prosecuzione dei cantieri perché le modalità alternative di riperimento dei fondi non so se qualcuno si ricorda le aree leader sono completamente fallite non credo che nemmeno una delle gare per l'assegnazione delle aree leader sia stata assegnata sia andata a buon fine quelle più appetibili parlo di Cilindanova Cilindanova non ha aderito al discorso perché mi gestisco la sua Certo con questo è l'altro aspetto questo meccanismo questo meccanismo che veniva immaginato che veniva proposto attraverso la realizzazione delle aree leader è l'aberrazione dell'urbanistica e di una corretta pianificazione del territorio nel senso che si immaginava che sulle aree intorno o su una ventina di aree che erano state selezionate nei pressi degli svincoli della nuova superstrada la pianificazione urbanistica non sarebbe più non avrebbe più risposto alle esigenze dei comuni su cui territorio si trovavano quelle aree ma sarebbe stato tutto avvocato alla struttura quadrilatera SPA che realizzava tutto l'intervento compreso quello dell'autostrada e dinamiche del genere si ritrovano o si sono ritrovate in questi anni anche in altre regioni nel piano territoriale regionale di coordinamento del Veneto era stato inserito un articolo che prevedeva che tutte le aree nell'arco di due chilometri in un raggio di due chilometri dagli svincoli delle nuove superstrade e autostrade era di pianificazione diciamo così non è la pianificazione di tutte le aree entro due chilometri dagli svincoli non era dei comuni ma assumeva una valenza strategica di carattere regionale quindi si potevano immaginare progetti a valenza che significava sostanzialmente creare tantissimi centri di sviluppo di centri commerciali di aree di questo tipo ulteriore sviluppo perché appunto anche in quel territorio c'è abbastanza c'è una saturazione abbastanza significativa devo dire perlomeno come indicazione che per il momento ho dato un quadro tragico della realtà del nostro paese e secondo me è così cioè non c'è non dobbiamo fingere che nel corso degli ultimi anni qualcosa sia cambiato soprattutto nell'attenzione nel modo in cui chi amministra e soprattutto chi governa si approccia a determinati a determinati temi restiamo la regione in cui per fare un esempio restiamo il paese in cui in 10 regioni su 20 si cava senza avere un piano delle attività estrattive restiamo il paese in cui qualsiasi tipo di intervento si debba far passare in maniera diciamo così privilegiata lo si inserisce all'interno della legge obiettivo la famosa legge figlia di quella sera in cui Berlusconi andò da Bruno Vespa a disegnare delle cose su una mappa dell'Italia si trasformò in una legge sulle opere strategiche che è stata approvata a fine 2001 e che se anche la volessimo considerare efficace e effettiva per il nostro paese dal 2001 al 2013 si è realizzato appena il 10% delle opere che stanno all'interno di questa legge quindi o non sono strategiche le opere o la legge è un totale fallimento negli ultimi anni però appunto nonostante appunto il quadro continui a essere tragico qualcosa è cambiato da una parte è il mercato che indica una direzione e per darvi un esempio molti comuni si trovano nella situazione di dover restituire gli oneri di urbanizzazione incassati negli anni precedenti cioè nel momento in cui io autorizzo la costruzione la realizzazione dell'intervento io mi faccio anticipare gli oneri di urbanizzazione dall'impresa che ha chiesto il permesso ha ottenuto il permesso a costruire gli oneri di urbanizzazione che peraltro in buona parte del paese vengono utilizzati non per realizzare effettivamente le opere di urbanizzazione ma in virtù di una disposizione di legge introdotta durante credo un governo amato 2000 quando il ministro era Franco Bassanini questi oneri di urbanizzazione sono spostati sulla parte corrente del bilancio quindi molti comuni hanno finito con l'utilizzare negli ultimi 12 anni il territorio come se fosse un banco quando c'era bisogno di liquidità ma adesso questo meccanismo viene meno e molti comuni devono restituire in serie di bilancio consolutivo oneri di urbanizzazione anticipati negli anni precedenti da imprese che poi rinunciano a costruire e diventa probabilmente un gioco che non vale più la candela perché restituire dei soldi quando li hai già incazzati e magari anche spesi per garantire servizi ai cittadini è assai difficile è assai diventa assai pericoloso pericoloso per la tenuta del bilancio del bilancio comunale che qualcosa è cambiato senz'altro lo dimostra anche l'impegno che si è portato avanti con il forum Salviamo il Pesaggio che è nato due anni e mezzo fa fino a ottobre del 2011 e che in questi anni ha o è riuscito a portare avanti un portare avanti un impegno significativo un impegno propositivo anche nei confronti delle istituzioni sui temi del del paesaggio diciamo è riuscito a far entrare anche con l'aiuto di firme autorevoli come quella di Carlin Petrini che ovviamente quando viene quando parla o quando scrive viene recepito in maniera diversa ad esempio di un Luca Martinelli qualsiasi siamo riusciti a portare questo tema al centro dell'agenda della politica a livello nazionale ad oggi ci sono una dozzina di leggi che trattano del tema del consumo di suolo tra proposte di legge di iniziativa parlamentare disegni di legge di iniziativa governativa ovviamente nessuno di questi testi è perfetto tutti sono perfettibili però è un dato di fatto che due anni fa se noi avessimo guardato allo stesso dato ovvero il numero di disegni di legge che affrontavano in Parlamento il tema del consumo di suolo il dato era zero e qualche mese fa anche a livello di anche l'Unione Europea ha riconosciuto che il suolo è una risorsa non rinnovabile nel senso che una volta che è consumato cementificato non si rinnova e non ritorna mai alla condizione originale che per questo va salvaguardato con attenzione nel nostro paese immaginare leggi per la tutela di un del suolo o anche per interventi di carattere nazionale su questo tipo non paiono non paiono appunto nelle corde non sono entrati nelle corde di chi ci ha governato per anni tanto che appunto manca talmente tanto una visione d'insieme apro sfoglio l'ultimo numero di altre economie in cui c'è un servizio dedicato a Comacchio costa Romagnola dove si sta progettando la realizzazione di altri 13.000 nuovi posti letto nella zona dei lidi di Comacchio dei lidi ferraresi quando c'è una ricerca molto importante che è stata pubblicata da un professore ricercatore dell'Università dell'Aquila qualche mese fa che parlando della costa adriatica descrive la drammaticità della situazione di una situazione in cui negli ultimi 50 anni sono andati persi o è andata persa quasi la metà della superficie di costa adriatica libera da costruzioni questo cosa significa che la costa adriatica dalla punta del fluo Venezia Giulia Santa Maria di Leuca è lunga 1472 km negli anni 50 944 km erano liberi da costruzioni adesso ne sono rimasti poco più di 450 km praticamente si salva ma lo sapete magari anche meglio di me si salva il San Bartolo il Conero per ragioni naturali non è possibile costruire il Gargano che è anche parco nazionale e poi qualche spazio residuale qua e là altrimenti la gran parte della costa adriatica è urbanizzata con i gravi problemi che questo comporta soltanto poche mesi poche settimane fa Senigallia è stata investita da una forse non la possiamo definire una sciagura ambientale perché questo appunto caricherebbe sul sul sulle sulle cause naturali quindi sulla pioggia eccezionale la causa di ciò che è successo che probabilmente invece è conseguenza di qualcosa di cui l'uomo è artefice è responsabile dato che sono entrato su Senigallia però mi piace ricordare una cosa che il comune di Senigallia è uno dei pochi in Italia negli ultimi anni ad aver scelto di tornare indietro nel senso che il comune di Senigallia ha nel corso del 2013 e del 2014 riportato 70 ettari di terreni situati all'interno del comune da edificabili ad agricoli dando un'indicazione importante anche e che dovrebbe essere ricepita da tutte le altre amministrazioni comunali i diritti edificatori non esistono e agli enti locali spetta la potestà e la capacità di indicare la destinazione d'uso dei suoli così se un'amministrazione precedente ha identificato che determinate aree si sarebbero dovute trasformare da agricoli edificabili un'amministrazione successiva con un'altra sensibilità può tornare indietro c'è una particolarità e questa credo che sia una magari una campagna o una riflessione che sarà importante avanzare promuovere anche come forum e come realtà che ne fanno parte nei prossimi mesi confrontandosi con il sindaco di Senigallia che peraltro è anche il presidente dell'associazione nazionale dei comuni italiani delle marche lui ha praticamente sottolineato come per fare quest'operazione abbia dovuto gestire in maniera diciamo così molto molto importante la qualità delle relazioni con i proprietari dei terreni di cui si andava a variare la destinazione d'uso praticamente tutti i proprietari sono stati chiamati uno per uno per capire se avevano intenzione o meno di far causa del comune questo per quale motivo perché il comune e i comuni che in generale sono sempre più poveri nel senso che hanno sempre meno capacità di spesa e di intervento o che per un comune sarebbe molto difficile immaginare di dover sostenere una causa legale nei confronti del proprietario X che rivendica il diritto edificatorio per quanto non esista anche se alla fine della causa probabilmente il comune risulterebbe vincitore oggi è proprio lo stare in giudizio che diventa difficile così ad esempio potremmo immaginare una una campagna o una proposta secondo la quale dato che abbiamo un articolo della costituzione che è il nono che stabilisce che è la repubblica a tutelare il paesaggio potremmo immaginare che qualora un'amministrazione comunale si trovi a dover incorrere in una causa legale per aver difeso il paesaggio sia l'avvocatura dello Stato a farsi carico della difesa di quella di quell'amministrazione comunale questo perché la Senigallia comunque sia è una cittadina di 40.000 abitanti ma per i comuni più piccoli sono la maggior parte esempio dei comuni qua dell'entroterra marchigiana fare una scelta del genere diventa davvero diventa quasi proibitiva proprio dal punto di vista economico e allora si lascia stare si lasciano magari anche per decine d'anni delle situazioni in bilico dei terreni magari che hanno avuto il cambio di destinazione d'uso ma su cui magari non si è intervenuto e che però su cui resta sempre la spada di Dante del possibile avvio di un intervento che poi non è un intervento indolore per l'amministrazione pubblica in generale per il territorio secondo le analisi dei pianificatori degli urbanisti e territorialisti ogni ettaro di terra che viene cementificato urbanizzato insomma coperto che perde la sua condizione naturale comporta un aggravio di circa 6500 euro all'anno per costi di gestione della diciamo così le funzioni naturali che il suolo assolve costano 6500 euro l'anno per ogni ettaro che viene perduto quindi questo significa che siccome il cemento è per sempre ogni ettaro consumato deve farci deve dobbiamo immaginare che carica la collettività di un aggravio di costi di 6500 euro esternalità negative che però purtroppo appunto si studiano magari sui manuali di economia degli anni dell'università e poi ce le dimentichiamo e se le dimentica soprattutto chi pianifica e chi decide rispetto alla gestione del nostro territorio allora la fortuna o almeno credo una fortuna un aspetto importante significativo di questi anni è stata però la nascita la creazione non tanto del nostro forum ma dico io di migliaia di comitati in tutto il paese migliaia di comitati che hanno saputo rendere in o che hanno saputo partire da cause e questioni territoriali locali per farne delle questioni esemplari per farne motivo di riflessione sul modello di sviluppo e sull'idea di sviluppo che immaginiamo o che crediamo necessario per il nostro paese salviamo il paesaggio il forum ma secondo me è la capacità ho avuto l'intuizione di provare ad aggregare queste istanze infatti oggi del forum fanno parte sì alcune associazioni nazionali come Slow Food ma soprattutto fanno parte tantissimi comitati locali la maggior parte delle realtà che fanno parte del forum sono 900 comitati oltre 900 comitati locali e anche per questo secondo me è importante che siamo stati convocati due volte in Parlamento in audizione perché prima quando si discuteva di tematiche inerenti all'ambiente gli unici soggetti da aver voce erano le grandi associazioni ambientaliste ovviamente veniva invitato il WWF veniva invitata la Lega Ambiente veniva invitata Italia Nostra veniva invitato il FAI che giustamente portano avanti delle proprie campagne le proprie posizioni frutto di articolate serie regionali centinaia e migliaia di circoli e di associati però credo che il forum abbia avuto la capacità di portare in questi consessi quindi di fronte alle commissioni parlamentari competenti quindi ambiente e agricoltura anche le istanze dei comitati locali e anche la capacità critica o la capacità di critica costruttiva frutto del vissuto di decine di centinaia di comitati locali e credo che questo sia un vantaggio nel libro salviamo il paesaggio io provo a dare anche uno spaccato dell'azione di questi comitati ci sono 25 storie che noi che ho raccolto girando per tutta Italia una particolarità prima facevo l'esempio della orte mestre perché mi sta particolarmente cara ma secondo la mia idea di giornalismo secondo l'idea di giornalismo che noi applichiamo ad altre economie realizziamo ad altre economie noi raccontiamo ciò che vediamo ci spostiamo per vedere le cose il giornalismo non si può far seduti a una scrivania a Milano o a Roma il giornalismo si fa andando parlando con le persone focalizzando con i nostri occhi ciò che vogliamo raccontare perché è l'unico modo poi per renderlo anche in maniera più efficace al lettore è ben diverso leggere un'agenzia di stampa che non entrare faccio l'esempio della quadrilatero quando ormai quattro anni fa scrissi un pezzo sulla quadrilatero io sono entrato dentro la galleria che stavano scavando a Colfiorito e uno se ne rende conto di cos'è Colfiorito che immagino non lo debba dire io a voi e di che cosa significa vedere come stanno sventrando quella collina e credo che questo si renda meglio anche all'interno di un articolo quando l'hai visto che non semplicemente immaginando quello che stava succedendo appunto sulle montagne che dividono le marche dalla dall'Umbria e in questo in questo libro noi abbiamo provato a sistematizzare l'azione dei comitati in una sorta di decalogo di azioni perché credo dieci parole chiave perché io credo che salvare il paesaggio si fa in tanti modi e per fare rapidamente l'esempio di due cose che magari uno potrebbe immaginare ma non sono particolari non sono azioni dirompenti e tutela del paesaggio vi leggo anche tutto vi leggo il decalogo mappare informare riutilizzare simboleggiare manifestare ripensare tutelare presidiare giustapporre aggregare vi vi faccio due due esempi uno sul riutilizzare noi lo scorso anno come forum abbiamo deciso a maggio del 2013 di fare la nostra assemblea nazionale a Bologna all'interno di una di uno spazio di una ex fabbrica che è stata occupata per essere riutilizzata come spazio sociale e culturale da parte di una associazione una rete di associazioni bolognesi che si occupa del riuso temporaneo degli spazi è un lavoro dal mio punto di vista importante e che va nella logica di salvaguardare il paesaggio perché sostanzialmente invita soprattutto chi amministra a guardare l'enorme mole di capannoni sfitti che ci sono nelle nostre città la loro idea che è quella del riuso temporaneo cioè non l'occupazione che per 10 anni o 15 anni resta nello stesso spazio che prima era inutilizzato ma una sorta di contratto a termine che permette di lì a pochi anni un paio d'anni di spostarsi in un altro spazio per accendere luci in un territorio il forum salviamo il paesaggio ha promosso un censimento del cemento per questo per arrivare da un altro punto di vista a far sì che i comuni si rendessero conto che c'è molto costruito è abbandonato molto che è stato costruito è lasciato completamente andare in stato di abbandono e che prima di costruire del nuovo sarebbe buona cosa buona e giusta riutilizzare l'esistente e secondo me anche questo quest'idea dell'occupazione temporanea va nella stessa direzione l'altra un altro tema che credo sia importante che si sta via via realizzando è quello del giustapporre immaginare qualcosa di completamente diverso e opposto rispetto a ciò che ti stanno proponendo allora prima abbiamo parlato di Orte Mestre in Veneto a Mira che è una delle cittadine della riviera del Brenta che verrebbero attraversate anche lì ci sarebbe il punto d'arrivo dell'Orte Mestre si andrebbe inserire su un'altra autostrada che è il passante di Mestre a Mira si sono inventati l'idea del pane logistico ovvero siccome non amano i cittadini di Mira o alcuni cittadini attivi di Mira non amano le infrastrutture e non amano i poli logistici commerciali che si sviluppano sempre intorno agli svincoli hanno preso un campo hanno iniziato a coltivare del pane biologico del grano biologico e hanno ricostruito a livello locale una filiera completa del pane quindi dal grano grano antico coltivato con metodo biologico la macina a pietra e poi la panificazione e quel pane viene venduto a Mira con l'idea questo è anche uno dei loro uno striscione molto bello che appunto hanno appeso lungo uno dei dei navigli del Brenta sotto la neve il pane sotto il cemento la fame il fatto che il loro territorio deve può nutrire non il pianeta come è lo slogan di Expo ma può nutrire Mira invece di essere sotterrato sotto contredicimento io direi insomma questo è un po' il racconto che anche fa il filo conduttore di questo libro poi se ci sono un po' di domande da parte vostra volentieri continuiamo la discussione insieme grazie 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 l'assessore se vuoi intervenire intanto te lancio un attimo perché anche a macerata come ti dicevo Pierpaolo D'Artaveni è un consiglio comunale ha proposto di fare in consiglio comunale questo censimento naturalmente la giunta era d'accordo però gli altri consiglieri comunali trasversalmente hanno votato contro questo censimento circa due anni e mezzo fa stessa cosa come ti dicevo è venuta anche a Corridone con la scusa che gli uffici comunali non hanno tempo per andare dietro a queste cose ma dovrebbe essere la condizione per programmare quindi sapere quello che c'è invece di dopo noi viviamo delle cose allucinanti perché la magistratura in questi giorni ha un consigliere comunale al di là di quello del presidente della commissione urbanistica ha fatto un muretto al di là che non si doveva fare eccetera eccetera poi è rinviato a giudizio per violazione della legge sul paesaggio un muretto ecco guardano queste la formica la bagliuzza poi non si guardano le cose più importanti non voglio entrare nel merito di quella vicenda però mi sembra esacerata diciamo quello che fa la magistratura non guardando tante altre cose molto più evidenti più gravi e poi va a attaccare un esempio che è banale secondo me questa è Maria ringrazio tantissimo di questo intervento disposto per il tale di essere così maeducato e così ringrazio ci conosciamo tutti benissimo ringrazio molto per questo intervento ma la Cerata è un territorio che ha tante responsabilità politiche nella gestione nel modo con cui è stato in tanti modi in tanti anni il territorio e il paesaggio è stato insomma violato violato per una serie di scelte scellerate una cubatura altissima una vendita di diritti edificatoria altissima quando siamo arrivati quattro anni fa in continuità rispetto al centro sinistra senza dubbio però anche con una discontinuità certamente tutta la cubatura possibile era già stata utilizzata non potevamo sicuramente continuare a questo gioco poi la crisi ha bloccato la possibilità edificatoria i diritti c'erano ma non si è costruito e questo ha chiesto una riflessione una riflessione importante per tutti la necessità da parte dei costruttori che questo è un discorso da fare insomma la non poter costruire e la richiesta dunque di o di restituire cubatura per esempio abbiamo posto anche queste condizioni di non pagare gli oneri oppure diluirli nel tempo insomma si è aperta tutta una discussione nuova sul paesaggio che è stata una contrattazione che doveva essere funzionale ai lottizzanti però allo stesso tempo è stata utile per rimettere in discussione quello che era stato fatto in passato ed è stato anche un aspetto molto interessante perché si è potuto portare si può portare sul tavolo anche il discorso della restituzione della cubatura quella cubatura quindi mette in discussione di diritto i diritti edificatori che è vero non esistono però io conosco bene il sindaco di Senegallia e mettersi in discorso legale con ogni situazione è complicatissimo pericolosissimo per un comune quindi poter aprire questo è importante adesso ci siamo trovati in questa situazione con la possibilità che abbiamo fatto i datori a agrari insomma la variante inversa come si dice ed è un'altra possibilità che stiamo trovando a mettere in campo non è facile soprattutto in questo territorio dove sappiamo perfettamente che ha avuto un governo prima tu parlavi di Carelli di fatto del nostro presidente in realtà la situazione è molto più complessa di quella che vi pare anche nelle responsabilità vanno assolutamente verificate invece vanno verificate quella è solo una punta che giustamente deve andare invece andare avanti insomma ci stiamo lavorando stiamo lavorando su un'idea diversa ci stiamo provando in tanti modi e non è facile va assolutamente combattuta l'esempio che ha portato prima Fabio è vero in consiglio comunale che Paolo Tartabini ha proposto di far genzimento trasversalmente è stato è un segnale di una cultura che deve ancora maturare deve ancora crescere la crisi ci può aiutare a crescere secondo me non so se mi sbaglio no no ma che è contribuito sicuramente no no senza altro appunto è quello che dicevo all'inizio anche magari quando quando lei ancora non era arrivata che effettivamente la crisi ci aiuta dal punto di vista del soprattutto della riflessione intorno al settore residenziale delle costruzioni nel senso che oggi su alcune posizioni ci troviamo su punti di vista simili almeno a parole ad esempio anche con l'ANCE cioè con l'Associazione Nazionale dei Costruttori Edili oppure per dare l'idea di quello che secondo me è un ovvero sul fatto che è importante iniziare a intervenire sul costruito sulle riqualificazioni sugli aree dismesse piuttosto che costruire sul nuovo questo mi pare che ormai sia un punto quasi assodato oppure che è una cosa molto secondo me significativa che si è realizzata nel corso dell'ultimo anno salviamo il paesaggio il forum è uscito con un documento congiunto insieme con la filea quindi con il sindacato della CGL che riunisce tutti i lavoratori del settore dell'edilizia che hanno capito che probabilmente se vogliono continuare a lavorare non invece continuare a contare l'emorragia di posti di lavoro che pare inarrestabili negli ultimi anni nel settore dell'edilizia probabilmente devono essere in grado o dobbiamo tutti insieme essere in grado di far pressione in questo caso sì per spostare incentivi fiscali ad esempio sulle ristrutturazioni e sulle riqualificazioni ma anche sulla formazione perché poi la realtà vera di cui ci parla la segreteria della filea è del fatto che sappiamo benissimo che si tratta di un settore estremamente polverizzato cioè in cui ci sono tantissime aziende unipersonali o insomma di aziende che hanno al più uno o due collaboratori e che ovviamente sono soggetti che avrebbero bisogno di un adeguato processo di formazione e di riqualificazione professionale per essere in grado di operare nel nuovo mercato che noi ospichiamo si apre che è quello delle riqualificazioni ma appunto per questo dicevo prima se da un lato questo aspetto è diciamo così ci apre delle prospettive di dialogo e anche un futuro magari più rosio dall'altro bisogna prestare grandissima attenzione al tema delle infrastrutture che è il vero secondo me il vero nodo dei prossimi anni nel senso che si pianificano investimenti per decine di miliardi di euro in infrastrutture pesanti questo significa anche ed è un dato che anche che le associazioni dei costruttori già evidenziano da tempo questo comporta dei problemi che anche appunto le associazioni datoriali riconoscono cioè il fatto che ormai lavora solo il grande il vero problema se uno guarda i dati disaggregati dell'industria delle costruzioni si rende conto che quelli che soffrono la crisi chiudono sono le piccole e piccolissime imprese quelle che magari tirerebbero su una casa o che lavorano nella ristrutturazione degli interventi all'interno di un patrimonio magari di un patrimonio storico come quello dei centri delle nostre delle nostre città italiane e in realtà chi sta bene e anzi aumenta il fatturato aumenta il portafoglio di ordini sono le grandissime imprese quelle che lavorano con commesse dei 50 e dei 100 milioni di euro in su questi non soffrono la crisi anzi ed è grave perché comporta anche tutta una serie di altre problematiche affronto un problema che so riguarda qua nelle Marche perché ci ho fatto un dibattito pochi mesi fa la città di Pesano non so se riguarda anche Macerata e riguarda da vicino esempio il territorio da cui vengo che è la Lucchesia si stanno progettando in tutto il paese decine di nuovi ospedali e tutti questi nuovi ospedali vengono realizzati in regime di project financing come le autostrade il problema del project financing applicato agli ospedali per me è principalmente uno che nel momento in cui tu fai realizzare l'ospedale al privato affidandone anche la gestione a questo soggetto privato per rientrare dei soldi dell'investimento tu ti leghi per 20 o 25 anni anche con un contratto tu Stato tu Regione tu ASL ti leghi con un contratto d'affitto alla struttura e ai macchinari che sono di proprietà del terzo e noi ora ci troviamo in una situazione in cui c'è una contrazione ovvero il governo immagina una contrazione della spesa sanitaria nel momento in cui noi siamo con degli ospedali diciamo di proprietà dell'ASL l'ASL può decidere contraggo le spese fisse gestione oppure gestione della struttura oppure contraggo le spese riduco le spese sanitarie cioè i servizi che garantisco all'utenza e posso decidere di modulare tra queste due tipologie di spesa quella a cui voglio su cui voglio intervenire nel momento in cui la spesa della struttura è fissa io ho soltanto uno spazio su cui intervenire che è il servizio e quindi andrò alledere ulteriormente il diritto d'accesso alla salute dei miei cittadini perché non posso andare da Fabio che è chi ha costruito in gestione il mio ospedale e dirgli mi riduci il canone del 10% perché ho la spending review e altrimenti dovrei e lui dice no io devo rientrare il mio piano economico finanziario dice che io devo prendere questo ogni anno perché altrimenti non guadagno sufficienza non ripago le spese e allora io da direttore dell'ASL mi troverò costretto a dire vabbè allora intervengo in maniera ancora più drastica sui servizi sanitari e questo è un problema che nel nostro paese c'è in decine di provincia in decine di ASL in Toscana da dove vengo io sono stati appena terminati e appena stata terminata la costruzione di 4 nuovi ospedali tutti in progetto finanzi affidati con un unico appalto in 4 città diverse Lucca, Prado, Pistoia e Massa con problemi seri che sono stati riscontrati presto immagino saranno riscontrati anche dalla Corte dei Punti questa è una scelta che abbiamo fatto non per gli ospedali ma quella della riduzione degli oneri sulla ristrutturazione e invece l'aumento fino a 3 volte in 10 anni degli oneri sul nuovo che è un'altra forma di cercare di arruinare anche una cultura rispetto a questo è stata una battaglia in commissione urbanistica non voleva passare poi avevano chiesto anzi noi avevamo messo in 5 anni l'aumento di 3 volte e insomma alla fine siamo arrivati a 10 anni in 10-12 anni di fare che però comunque dovrebbe invertire dovrebbe provare anche questo di invertire una modalità di gestione di generazione del territorio però per dire quali sono le reazioni immediate spese correnti che avete azzerato si spese correnti abbiamo azzerato è rimasto il 10% 10 penso l'anno prossimo insomma il prossimo bilancio se lo riusciamo a fare noi non ci saranno più però ecco i segnali e quando siete entrati faccio il giornalista che le fare no quando siete entrati era al 60% 45 quasi 45 appena noi sono 60 l'anno qui era troppo era fidanciato con quella purtroppo queste cose non si ma questo è molto difficile comunicarlo farne un argomento di discussione in città molto difficile molto difficile basta sicuramente una conflittualità politica interna perché su questo ci si scontra ci si scontra pesantemente poi in maturanza perché si hanno posizioni politiche ma non sono politiche culturali diverse anche all'interno della stessa maggioranza questo l'ha detto va detto in maniera chiara anche all'interno della stessa maggioranza perché non so perché perché dobbiamo far crescere una cultura diversa quindi anche politicamente prendere certe decisioni maturano dopo scontri difficili e avere una massa critica che ti sostiene a livello diciamo di consenso di opinione in città è complesso perché spiegare immagino che conosciate bene questa questa difficoltà di avere un dibattito pubblico su tematiche anche così complesse nei linguaggi spese correnti spese di investimento in un dibattito pubblico in fuoco però sappiamo che invece si gioca al futuro reale del paesaggio ma poi di tutti noi insomma queste sono state le tentative ma anche delle scelte ripeto complesse in situazioni politiche anche molto complesse legate al fatto che ci sono posizioni diverse però questo è il segno sono dei segnali le politiche populiste insegno del diametamento opposto dicevamo anche a cena il discorso anche dell'orizzonte temporale della politica che è basata sul ciclo elettorale non permette ci vuole veramente coraggio un'altra battaglia che quella vinta sembra una piccola cosa è passata la richiesta di fotovoltaico a terra un bellissimo posto come si chiama Cuschetto Ricci lì insomma quelli erano soldi la possibilità io conosco benissimo il comune di Tereglia quello comune diciamo noi e ne ha fatto una ricchezza rispetto a questo ma Coridonia Coridonia pure 20-30 anni fotovoltaici è uno scempio terribile però sono soldi che entrano al comune noi non abbiamo permesso che si è bloccato con quel percorso che invece era molto sostenuto molto sostenuto e desiderato magari questo non fa non fa grande scena però insomma è un segnale anche questo di una volontà diversa di una volontà diversa infatti anche quel discorso che dicevi sulle politiche nazionali anche qui cioè questi elementi distorsivi derivano tra i finanziamenti che stanno io che ti conviene parlo cioè il contadino potrei anche fare un quanto di male di un mio territorio perché mi entrava ma anche il contadino mi potrebbe anche fare un soldi che fa la Sino magari eh non lo so per ridare valore di contura sarebbe una delle opzioni così per fortuna entra di noi insomma anche la cantina che questa sera ci offre un bicchiere insomma che potrebbe anche testimoniare come la tutela del paesaggio si fa lavorando il paesaggio facendo un'agricoltura di qualità e sostenibile insomma anche questo per noi maceratesi è sempre abbastanza scontato ma l'agricoltura sarebbe la prima forma di tutela naturale magari potrebbe anche mentre assaggiare il vino raccontare qualcosa di più se fai il vino sì sì bene mentre io mi riallaccio al suo discorso su autostrada che mi interessa particolarmente perché è un tema del quale io mi sono occupato ahimè nel senso che ero molto giovane quando facevo il primo anno di università di architettura a Roma e mi sono occupato dall'allora costruendo giusto allo strato del sole riallacciandomi a quel tempo andava molto in voga il cosiddetto English landscape cioè il mantenimento del paesaggio estraurbano sulla scorta degli esempi anglosassoni quindi mi riallaccio al suo discorso nel senso che effettivamente oggi invece di oltre che fare nuova urostrade che forse in qualche caso ci sarebbe anche forse bisogno non lo so per quanto la sua menzione dell'orte mestre il duplicato dell'oreia in Maremma e ce ne sono altre di autostrade che sono in progetto di fare che probabilmente potrebbero essere superfluo io quello che dico bisogna fare è quello che credo il mio progetto una ricognizione dello stato attuale di allo strade costruite faccio un esempio l'incidente che c'è stato sulla Napoli Canosa di quel pullman due anni fa che è cascato giù da un viadotto perché il gab rail non era regolare ma io dico ma quanti casi di quel genere ci sono in giro per l'Italia io ho fatto l'autostrade del sole centinaia di volte perché ho lavorato a Milano ho organizzato convegni in tutta Italia e l'autostrade del sole è la dorsale appunto che mi portava un po' nel centro sud ma voglio dire quindi quante autostrade che sono state fatte negli anni 50 60 70 80 secondo me sono state fatte non certo secondo i criteri giusti di standard di standardizzazione della costruzione ma io dico è lì che dovrebbe incidere andare a guardare esattamente mantenere un'autostrada come si conviene seconda cosa quando io appunto ho fatto menzione ecco l'altra cosa volevo dirla è quello del Metauro quello dovrebbe unire Fano a Grosseto che passa proprio nei paesaggi di Raffaello tra l'altro e c'è giusto lì un comitato che cerca di difendere questa e lì paradossalmente si tende a dire che bisogna fare i tuoi come? venerdì prossimo parleremo in breve allora lo vengo sicuramente e lì paradossalmente si parla del fatto che bisognerebbe privilegiare i tunnel in luogo dei viadotti perché col tunnel non si lede quello che è il paesaggio chiusa parentesi quindi dicevo la questione è quella di manutenere ecco una cosa mi interessa moltissimo è quello che dicevo prima l'autostrada l'autostrada impatta con ponti viadotti sottopassi tutte le aree di servizio che stanno intorno appunto all'autostrada io dico faccio solo un esempio lo dico sempre a chi mi conosce e anche a chi non mi conosce e so convinto anche che posso essere in questo caso anche probabilmente provocatorio il ponte che ha fatto Santiago Calatrava a Reggio Emilia io lo giudico positivamente lei magari no però io dico a fronte di tanti viadotti fatti esclusivamente col cemento armato o di metallo che a mio avviso mi danno un senso di volta a stomaco quello lì certamente è un'opera musea chiamiamola un'opera monumento che probabilmente impatta sicuramente sul territorio però la leggerezza l'ereità che dà questo ponte è tutta un'altra cosa rispetto agli altri manufatti che fanno veramente danno veramente un senso di oppressione nel peccorio l'autostrada io non dico bisogna sempre chiamare forse le archistar per fare i ponti o i viadotti o che io dico perché non diamo il via a un progetto di carattere a avere tutti quanti per esempio gli studenti di belle arti di architettura per rendere vivibile il paesaggio estetico il paesaggio io sono malato di estetica io dico in Italia che abbiamo avuto degli artisti che si sono occupati di estetica e ci hanno lasciato quello ci hanno lasciato non possiamo lasciare costruire l'autostrada in mano magari a delle ditte che tra l'altro sono infiltrate dalla mafia tra l'altro e guardiamo l'esempio della Salerno Reggio Calabria ma possiamo stare qui noi cittadini ancora a pagare la Salerno Reggio Calabria che è stata cominciata 40-50 anni fa e ancora non è finita ma si può andare avanti così io dico ma buttiamoci lì dentro buttiamoci dentro i soldi ma facciamo finalmente un'opera come Dio comanda è questo che io dico grazie per quanto riguarda le infiltrazioni ormai come dimostrano ad esempio anche le vicende dell'Expo e della corruzione e le infiltrazioni sono ormai hanno risalito la linea della palma come era lì di Scias ormai è arrivata a Varese sul confine con la Svizzera quindi non c'è non c'è ormai modo di di stirparla e per quanto riguarda la riflessione che lei faceva io credo che magari potrebbe quello che lei propone potrebbe essere un esperimento interessante dal mio punto di vista che però non ho alcuna competenza in architettura non sono architetto non sono urbanista sono semplicemente faccio il giornalista raccolgo storie in giro ho la fortuna di aver raccolto storie in giro per l'Italia e rispetto al ruolo di soggetti come Calatrava cioè in generale l'archistar io trovo che purtroppo nel nostro paese questi soggetti si siano lasciati troppo spesso utilizzare come specchietti per le alloglie faccio un paio di esempi uno è anche una delle storie più tragiche tra quelle che io racconto in questo libro tragico proprio per la difficoltà del comitato di agire che è la vicenda che riguarda la città di Salerno e il crescent cioè un edificio folle costruito sul lungomare della città di Salerno e a chiudere la visuale del centro storico di Salerno sul mare quindi a creare una cesura in quello che è stato un paesaggio in quello che è un paesaggio storico ovvero chi ha abitato nel centro storico di Salerno ha sempre avuto di rimpetto il mare e oggi si troverebbe davanti questa mezzaluna lunga 300 metri alta 30 di questo palazzo per appartamenti che nell'idea del vice sindaco del sindaco di Salerno ex viceministro Vincenzo De Luca avrebbe dovuto essere il monumento la porta della città di Fontanuno il biglietto da visita il biglietto da visita ed è non è l'unico perché ad esempio io trovo sconveniente a proposito di architetti e di grandi architetti lo posso dire anche di fronte al video io trovo sconveniente che Renzo Piano sia senatore a vita perché Renzo Piano è stato nominato come senatore a vita nel momento in cui aveva in essere delle diciamo nel momento in cui sono in essere dei conflitti significativi legati a progetti che lui ha disegnato penso al progetto di riqualificazione dell'area ex falte cioè l'idea di costruire appartamenti di lusso a Sesto San Giovanni che è una un po' triste per non dire orrenda periferia milanese progetto con un po' di difficoltà anche dal punto di vista giudiziario o il progetto della città della salute che è stato spostato nella stessa area e che è uno dei temi dell'ultima inchiesta della procura di Milano che è l'appunto su Expo ma che si allarga anche alla città della salute lui ha disegnato questi progetti e soprattutto si è speso politicamente negli ultimi anni in particolare per la scelta della disposizione di dove localizzare la città della salute quindi trovo un po' appunto un abuso di questo di queste firme secondo appunto la voce raccolta dai comitati ovvero quello che mi dice chi sul territorio lavora su questi temi spesso il ruolo dell'archistare è anche quello di zittire ogni tipo di protesta cioè tu cittadino chi sei per dire che un progetto di Renzo Piano non sta bene nel nostro territorio cioè noi abbiamo la fortuna che Piano ha disegnato qualcosa che verrebbe qua e te X mi dice di no è no o a Salerno la stessa cosa e quindi questo questo diciamo così questo ruolo che hanno assunto secondo me è un po' probabilmente limita quella visione che poi lei giustamente propone almeno nel contesto del nostro del nostro del nostro paese poi ovviamente questo è il mio punto di vista limitato al mio punto d'osservazione però soprattutto mi colpisce questo che tanti cittadini che lavorano in territori in cui c'è stato appunto il richiamo all'archistar come una panacea in grado di zittire qualsiasi tipo di protesta nel territorio perché non ci possiamo mettere contro il santone o contro il progetto che viene firmato dal grande nome perché tu non sei nessuno lui è lui una domanda e poi una riflessione volevo chiedere secondo te come è possibile mantenere economicamente un'opera come la quadrilatero considerato quello che ci dicevi non è questa area lì e poi non sono andato in porto è notizia degli ultimi giorni che la quadrilatero dovrebbe intervenire anche qui nel comune di macerata per realizzare una bretella una motoroloscita alla fine chi parla di queste opere che sono economicamente impattanti in modo in modo enorme la riflessione che anche lasciandome quello che diceva Stefania è vero c'è stato un consigliere comunale che ha fatto una mozione per per far fare aiutare il comune questo censimento sui immobili di spito ed è stata bocciata nonostante questo secondo me il comune poteva farlo comunque poteva comunque dare il sindaco disposizione agli uffici finché il censimento venisse fatto io l'ho mandato io quel censimento personalmente io al comune qualche altro comune della regione per esempio Urbino l'ha compilato non ha fatto tante scene ma l'ha solitamente compilato perché è una cosa d'ufficio non è che ci vogliono tante libere di consiglio comunale questo per dire che se si vuole veramente combattere l'abuso del suolo ci vuole e anche abbattere le resistenze che ci sono che Stefania conosce benissimo ci vuole veramente una presa di posizione forte che vada al di là di piccole aggiustamenti qui nelle Marche c'è una proposta di legge regionale che è molto avanzata d'iniziativa popolare e da un anno che è ferma all'interno del consiglio regionale la stanno facendo morire in attesa che l'anno prossimo ci siano le elezioni un governo di centro-sinistra allora le forze che dovrebbero più o meno avere a cuore certi valori vogliono dare una spinta forte finché una proposta di legge che tecnicamente è dicono tutti che sia assai varia che possa avere che va proprio in questa direzione consumismo zero una programmazione a livello sovracomunale insomma c'è un sforzo politico forte per arrivare a queste conclusioni altrimenti i singoli comuni così combattono e vengono scottiti da solito faccio una battuta rispetto alla legge del forum paesaggio delle marche è come pretendi che possono approvare una legge che stabilisce che i diritti edificatori decadono dopo cinque anni secondo me la legge elaborata dal forum paesaggio delle marche è una delle proposte più avanzate che esistano e io credo anche che è stata presa ad esempio anche all'interno del forum del forum nazionale quando siamo andati a Roma in audizione fino a ottobre alle commissioni ambienti e agricoltura per descrivere del consumo delle proposte di legge sul consumo di suolo uno dei delegati del forum nazionale era uno dei rappresentanti anche del forum paesaggio marche perché è importante non credo che in nessun'altra parte del paese sia raggiunta una capacità di sintesi dello stesso tipo di fatti anche uno dei paragrafi del libro è dedicato a questo tema rispetto alla domanda che facevi la risposta per quanto riguarda quadrilatero perlomeno a differenza delle altre infrastrutture è chiara e la risposta è stato a differenza delle autostrade affidate in gestione in progetti finanzi a soggetti privati la quadrilatero è una società al 100% pubblica cioè l'ANAS che sta facendo questi lavori dico di più è l'ANAS che sta appaltando questi lavori dico di più qualche anno fa trovandosi trovandosi nella in difficoltà nel pagare lo stand di avanzamento lavori all'impresa che ha ottenuto l'appalto la Strabal l'ANAS ha contratto debito debito pubblico quello che a noi insomma quello che ci spaventa perché tutte le sere in televisione ci dicono che il problema nostro è il debito pubblico che bisogna ridurre qualche anno fa l'ANAS contrasse un debito non so mi ricordo circa mezzo miliardo di euro mi pare che aveva come finalità il pagamento della società che sta realizzando la quadrilatero tra l'altro il debito venne contratto con la banca infrastruttura innovazione e sviluppo del gruppo intesa San Paolo di cui era amministratore Mario Sciaccia che poi di lì a poco divenne ministro nel governo nel governo Monti quindi questa almeno è l'unica certezza se non sappiamo chi pagherà poi l'ortemestre o tante altre infrastrutture che non avranno il traffico promesso prima ho messo un dato rispetto all'ortemestre sempre per l'interesse e l'attenzione ai numeri per fare 400 km 396 la tariffa media iniziale del primo anno è di circa 16 centesimi al chilometro che significa che per fare 400 km ci vogliono 60 euro che è circa il doppio delle tariffe fotostradali attuali chi la prende quell'autostrada? perché uno deve chiedersi anche questo visto che che al più uno risparmia circa risparmia poche decine di chilometri rispetto al tragetto attuale che potrebbe essere fatto con la 13 e poi l'autosole se costa il doppio ci salvia un ruolo che io vi ringrazio io invito chi volesse qua oltre al libro c'è anche qualche copia di altre economie la rivista per cui lavoro c'è anche per chi lo volesse per chi fosse rimasto particolarmente attratto dal modo in cui raccontiamo l'economia in maniera un po' più insomma tentando di renderla intelligibile a tutti la possibilità di abbonarsi alla rivista lo dico semplicemente non perché mi piace fare il 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 grande commerciale ma perché siamo una rivista di informazione indipendente il nostro editore è una cooperativa con circa 600 soci tra l'altro domattina c'è l'assombrera a Milano non riceviamo finanziamenti pubblici abbiamo fatto una scelta etica per quanto riguarda la raccolta pubblicitaria quindi non prendiamo la pubblicità da tutti quindi sostanzialmente viviamo del nostro del nostro lavoro siete in edicola non siamo in edicola siamo distribuiti solo nel circuito del siamo distribuiti sul abbonamento o nel circuito del commercio qui solidale quindi la bottega la bottega del mondo qua della bottega la bottega del mondo si si ah ah ok perché quando ah ok abbiamo ok e poi anche mondo solidale mondo solidale mondo solidale è uno dei soci fondatori della nostra cooperativa tra l'altro e quindi uno dei dei 60 soci giuridici e poi sono più o meno 550 soci fisici della cooperativa già abbiamo fatto l'abbonamento per la biblioteca grazie ok ciao 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 ciao